Ecco, io sono la responsabile amministrativa, molto piaciuta, sul preventivo i vostri nomi sono... E' chiaro, poi la fiducia si ripone in alcuni soggetti. No, io voglio dire, partiamo dal presupposto che il tunnel sotto lo stretto di Messina si deve fare. Però, scusate, io sono sorpresa da una realtà. Mi sono arrivato a preventivo da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dall'Olanda, dal Belgio, persino dalla Spagna. Ma certe volte sono anche favorito, diciamo, gli italiani. E' chiaro, non mi sembra un discorso patriottico, io sono il fratello d'Italia, per me amati mi sveglio a quel suono. E no, sono incuriosita dal fatto che questi preventivi... Paolo, scusate, ce l'ho finito perché c'è la gomma e scusate... No, è solo un vizio che è andata a fare... E lo so, un vizio, lasciate la camole... Ma, per farlo, con un po' di coprensione. Non vi dico che non vi contano 850 milioni di euro, 750 milioni, 600 milioni... 900 milioni di euro! E' roba di miliardi, certo! Non è che io mi opponga all'idea perché, comunque, costruire un turco sotto lo sedimento, dalla Calabria alla Sicilia, è costruito. Se non voglio andare qui, metto un giorno di bene. Però, la domanda sorge spontanea, come dice qualcuno. Come è meglio? All'altra parte c'è quello vostro che parla di 50 mila euro! E appunto, siamo molto, diciamo, competitivi. Competitivi! E là, diciamo, molto! Artigianali, qualcosa! Soprattutto perché, diciamo che... Dicevo, è un lavoro che facciamo soprattutto io e mio fratello. In questo caso, abbiamo proprio pensato come strutturare il tunnel. Ma voglio sapere, il tunnel dalla Calabria alla Sicilia? Io partirei dalla Calabria, no? Ho capito! Inizio a scavare la Calabria, no? Inizio a scavare la Calabria, no? Però dalla Calabria. Come dalla Calabria? Che? E mio fratello, invece, è un discorso molto artigianale. Mio fratello, invece, l'ha preso dal porto. Dalla Sicilia. L'abbiamo ribalti. E quindi, io scavare la Calabria, lui scavare la Calabria. E dall'altra. Fino a qua, diciamo, bene o male, a un certo punto ci troviamo. Ci troviamo, ecco il tunnel. Ho capito! Facciamo un bel lavoro. Certo! Ma io non metto in dove. La domanda, come dice sempre qualcuno, risorge spontanea. E se per caso non vi incontrate? Vabbè, in questo caso diciamo che avete due tunnel al prezzo di uno. Ti può proprio rupe? Per caso, uno lo possiamo fatturare, l'altro non è. Non è. Domana. Comanda. 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 Comanda... molto deplorevole. Abbiamo trovato una giacca da uomo. Abbiamo trovato un paio di pantaloni da uomo. Ed anche un paio di mutande da uomo. Poi non voglio dirlo. Abbiamo trovato un profilattico. Era profilattico. Era bucato. Grazie, grazie. Grazie a lei. Buongiorno. C'è i crackers? Crackers? Niente. Purtroppo i crackers. C'è i crackers? Crackers? Non ne abbiamo i crackers. Mi dispiace. C'è i crackers? Ho detto che i crackers non ne abbiamo. I am sorry. Spiacente. C'è i crackers. Cosa c'è i crackers? I crackers non ci sono. Basta. Ho detto che non ci sono. C'è i crackers. Se non te ne vai adesso prendo due i chiodi e ti attacco al muro. Hai capito? Scusa. C'hai due i chiodi? I chiodi? No. Allora mi dai i crackers? Scusa. Cosa c'è? No. Allora mi dai. No. Allora mi dai? Scusa. San di grosso. Ma, a.